Vabbè quella la conosco anche io Io ho detto alle 8 Ma intendevo alle 7 Scusami sono espresso male Perché ciò save the best? Scusami è vero che eri giù il pilot god? Scusami è vero che eri giù il god pilot raga Redard? No No però questo è una protosta che si è the best It's bad Unlucky Non so se ci arrivo a look in realtà Ok meno male La scarpetta Sai quella cosa mi piace mangiare di un vegetale? No non lo so Lasciagli il dubbio Ho proprio vinto da cane Ragazzi state dicendo troppe battute mentre sto giocando Non riesco a leggerle Sto giocando non riesco a leggerle Mi spiace per voi Ma le state sprecando in un certo senso Sai che c'è fanculo Quella è l'ossessione Vero? Fai finché posso hitare l'ossessione Poco a 0 Una stack l'hai hito a sto punto Lo andiamo a tirar giù Spero tirassi giù il pallet Dovevo betarla nel pallet Se avessi light Per questo non l'ho swingato Che rotto in culo che sei Mi fai perdere così la stack che ho appena perso Tra virgolette Vabbè Mi fai appena perdere la stack che ho appena guadagnato da te Praticamente hitandoti Cosa amore? A letto ma in piedi di dirti Immaginavo che qualcuno provasse a venire a fare il save Ti stanno ilando tutti là La cosa comoda è che proprio sotto il Il drone quindi Così si stanno curando lì Uno si è riuscito a curare Ma non si riusciamo a curare tutte e due Adesso lei la molliamo Non la cagliamo qui di striscio Perché abbiamo save the best Quindi Dove sarà andata la tipa? L'ho vista per caso tra l'altro Con la coda dell'occhio Non so neanche io come l'ho vista C'è la chiave questa raga È un ratto Sai che è troppo lungo sto loop che ho fatto Ci ho provato ma ha fallito Ah brutalmente è fallito Eppure per turn one shot a casa No non hai letto Ai sedia Come DVD dovrebbe diventare un film Ma fanno un film Ah DVD Stanno facendo un film di DVD Kayuk Cioè era uscita la notizia Tra l'altro lì vede A malapena Sai lì è perfetto Di minecraft con un protecione Già sono mollata Davvero? L'ho provato Ma qualcuno l'ha visto Super Mario non è ancora uscito Per curiosità Oh si è incastrato È l'ossessione però Non voglio andare per l'ossessione Però il fatto che mi dia est Non è male Ho un 3% di est Per raggiungere prima lui Forse potevo raggiungerlo Cioè potevo swingare lì La musica comunque Non mi piace per niente di lei Uh the dark È andato Anche se non l'ho ancora visto Super Mario Il mare è già uscito Dicono che sia Bello ma la trama Si è poco elaborata È molto infantile È quello che ho sentito Vabbè ci sta No 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 Che palle Parabara parabara Torniamo a cesare Questa è l'ossessione Ed è one shotabile Quindi andiamo per lei Perdiamo ancora meno stack Di Di save the best Almeno Cazzo è stato Sto rumoraccio Mazze zozzeria Ma li vorranno Non è stato Perché da dun alunno Luca mi parli di Omero E Luca Sono a sega Di 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 Super Mario Mimontavano Że Le voce Mi fanno sboccare Che ho c'ho Doe La riga RIP per chi gli serve la golia Fuck Sono completamente perso Immagino che gli stanno per scadere la batteria Comunque potremmo fare che se sei nel chase Non scade la batteria o qualcosa del genere A sto punto Che così è proprio dead L'add-on quello lì Non può saltare i pallet Che li rompe Nice Non mi sembra di vedere nessuno lì intorno Che sono sentrando Mi ha finito il jam qua Fa starda Beh A che velocità è caduta giù scusami Ma fa schifare il bot Chieta ti sei capito Au non flammare il mio nightbot Dai apri Ah il mio nightbot Non si fa Non si flamma qua Sono incastrato per sbaglio Mi ha messo in mezzo Mi voglio la mia settima stack Se per me ti gioco Dovra arrivarci Sì Viva l'Aist Oc le hanno andate a quelli degli attori Che le interpretavano In che senso Spe Ti pare il cicasco Per chi mi hai preso Signore Per il primo piano L'ho uscito di casa Per lo scapparello di casa Ecco Mi sono fatto fregare invece Troppo bello Più di ricordo di infanzia Ma sai che io ho guardato Harry Potter Di recente Non è che mi abbia fatto impazzire Cioè Onestamente Ci sono tanti film migliori Io l'ho guardato di recente Carino eh Ma ci sono dei buchi Che sono Grossi quanto una casa Di trama Soprattutto Se vai a vedere i libri A leggere i libri Vabbè E tu dici uno che non ha letto i libri Perché me l'ha letto Aki Davvero non ci sono arrivato Fuck Ho tirato giù il pallet Ci sto provando A mindgamarlo eh Non è facile La so giocare bene Però le dart l'ha già usato Marvel o DC Nessuno dei due Posso dirtelo Mi ricordo in che Mi sono andato giovane mago Faccio spesso le magie Prima la scope E poi sparivo Magie interessanti le tue Quello sul radar Come non saranno a fare il save No andiamo per lui Tanto Siamo off the record O meno lo ittiamo Con una cosa Ce ne mettiamo poco Non voglio andare per l'altro Solo perché lo stessi era Spero di fregarlo Stando lì magari Andava al volto sbagliato Andava a fare il Questa parte Mario è stato doppiatto in Italia Da un doppiatore Che viene Che ho spesso la voce di Pratt Infatti i SnakeRust Vogliono fare reboot Con la supervisione Della Rawlings Che dice Che ha creato Mugherry Potter Di C solo per Batman Gli altri mi annoiano Non è questo Ma rifarli Non credo Che sia un'ottima idea Se posso dirlo Però Sono bello entrambi Vedo già il messico all'orizzonte Immagino la magia quando contava Contattava un mese di 9 dopo Eh ma se spariti Come fanno a contattare Eh 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 È un reboot Non è un remake Boh ma Non credo che sia fattibile Per il semplice fatto che Non puoi scambiare ormai Il protagonista Ops potevo prendere l'instaccio di lei Vabbè ho sbagliato Non puoi cambiare ormai Harry Potter Non puoi cambiare l'attore Cioè ormai Harry Potter è lui Non puoi farci niente Secondo me non avrebbe mai successo Sono io papà Ormai la sto giocando super chill Raga Cioè non sto neanche più guardando lo schermo Praticamente per metà Guardo più la chat Dov'è finito infatti Me lo sono appena perso Per di sta cosa L'hai vista? Andato di qua ok Mi fa stile Mi fa stile Mi fa stile So giocare Ci sta E infatti Sono d'accordo In questa serie tv Cercare di essere Più fedele possibile I libri Ah è una serie tv Non è un film Sì Voi cosa ne pensate? Che sia sensato Che non ha senso Sai anche che saranno sette stagioni Così Ah vabbè sette anni Perché si proprio Quattro tizzi come questi Impazzisci E' bravo Sì ci sta Io vorrei sapere dove è la botola Vai lì L'ho già trovata Toxic serve Ma che senso Far una serie tv Su una serie di film Già visti Rivisti 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 Rimango fedele agli anime Onesto I libri Letti Letti Reletti Reletti L'ho già trovati L'ho già trovati